Si è chiuso il bando per l'assegnazione del progetto, quello che è per l'estate alla Marina, come è andato? Allora, ieri la Commissione ha esaminato i due progetti che ci sono arrivati e il funzionario ha firmato la determina, quindi possiamo dire che il vincitore del bando è la società che si chiama Oneir, però devo dire che nonostante il fatto che Oneir abbia vinto il bando, anche l'altro progetto che ci è arrivato era di tutto rispetto. Sono contento perché parliamo di due imprenditori civitavecchiesi e sono particolarmente contento proprio per il fatto che nonostante il preavviso sia stato brevissimo, i tempi brevissimi hanno presentato dei progetti che dimostrano che comunque persone che hanno voglia di fare, che hanno voglia di lanciarsi e rischiare nel mondo dell'imprenditoria sono anche qui a Civitavecchia. Questo lo dico perché ho avuto tantissime critiche relative a questo bando, diciamo che il tempo è brevissimo, non ci sarà nessuno in grado di preparare un progetto in così breve tempo, qualcuno ha fatto anche delle illazioni e cose varie, però sono contento proprio perché in questo modo abbiamo dimostrato che anche Civitavecchia può esprimere delle forme di imprenditoria vivaci, vive, in grado di riportare questa città forse a un modello un po' più ottimistico di quello che abbiamo vissuto fino a qualche anno fa.